Ledian, tanto ben rivisto, ben ritrovato. Come stai dopo un inizio di preparazione con qualche piccolo acciacco fisico? No, no, sto bene. C'ho avuto un problemino all'inizio, dovuto un po' anche al finale di stagione dell'anno scorso. Però ora sto bene, ho già dieci giorni che lavoro bene, quindi devo continuare così per cercare di arrivare in forma già all'inizio. Di Pescara, tra virgolette, ne hai conosciuti tanti. Questo Pescara che sta nascendo come ti sembra? Non so, forse poi mi sbaglio, però rispetto agli altri anni a questo punto siamo, secondo me, anche già un po' più completi. E quello è già un buon punto di partenza, partire già da ritiro con una squadra quasi completa. Empoli, Benevento, Frosinone, sulla carta sono i classici squadroni. Pescara in quest'ottica, in questo quadro, che ruolo deve avere? Ma noi dobbiamo partire come siamo partiti l'anno scorso, senza grossi proclami, bisogna lavorare a testa bassa senza fare già proclami a dire dove andiamo. Dobbiamo lavorare partita dopo partita, come abbiamo fatto l'anno scorso dove siamo partiti, diciamo, tra virgolette, un po' in sordina, dove nessuno si aspettava. Poi abbiamo fatto un campionato dignitoso. È chiaro che senza Gaston Brugman sarà un altro centrocampo. Tu sei il faro. Che centrocampo sarà, andando nello specifico? No, quale faro? Perdiamo Gaston, che è un giocatore importante per la B. Sì, quindi sappiamo, però adesso sicuramente ci dobbiamo mettere qualcosa a noi di più per sopperire anche a quello. Però sono arrivati ragazzi anche molto molto validi che daranno quel qualcosa in più. Cenzo, ora lo possiamo dire. Capitan Fiorillo. Ma, se lo si dice, però ufficialmente non lo so. Ecco, bisognerà chiedere al mister o a chi decide. Ti ci hai fatto un po' preoccupare? Come stai fisicamente? No, no, bene. Ho avuto un piccolo problema muscolare, ma ho ripreso completamente già da ieri con il preparatore per essere poi pronto per la Coppa Italia. Niente, se dovessi essere io il capitano sarei veramente felice. Diversamente non cambierebbe il mio modo di comportarmi, ecco. Conosci molto bene Pescara e conosci bene la squadra. Secondo te questo Pescara, rispetto a quello degli anni passati, che squadra è? Secondo me questo Pescara può essere paragonato come qualità tecnica alla squadra che centro la promozione. Secondo me, parlo di qualità tecnica, poi ci vogliono tantissime altre componenti che vanno costruite con il lavoro durante la settimana. Quello che mi ha colpito di più è dei nuovi arrivati. Ho riscontrato tutti i ragazzi veramente bravi, ragazzi con dei valori. Non è stato difficile per loro entrare in questo gruppo, perché è un gruppo che comunque ha dei valori. E niente, c'è da lavorare tanto, ma siamo giustamente fiduciosi. Allora io prendo subito per buone le parole che hai detto, Vincenzo, e quindi l'obiettivo deve essere quello della promozione, visto che hai detto che un Pescara è simile per qualità tecnica a quello che la centrò. Ma sicuramente rispetto a qualche anno fa, che adesso la B si è un po' accorciata come calendario, c'è un elastico molto basso di punti, di solito. Quindi devi partire bene sicuramente. È normale che la Serie B nel giro di due o tre partite ti può far pendere a centro classifica, come far schizzare nelle posizioni altissime. L'obiettivo del Pescara deve essere per forza di cose giocarsi un posto per la Serie A, che possa dire sia quella diretta, ma anche acciuffare i play-off e provarli a vincere.